Oh, andiamo a vedere che fa questo americano, questo americano è nato in America Allora, c'ha una scatoletta, una scatoletta di famosi spaghetti all'italiana Che vendono in America, in confezione famiglia Allora, questi sono famosi pici, secondo me sono pici all'aglianese Questi gli fanno all'agliana, vedi? C'è i viusterini, i famosi viusterini presi nel palco per Tini, nel lago Sì, ma ora sta' attento con questa scatoletta, tu ti porti via un pellone, tu senti l'oggettua, coso, vai Via, sbrana, ti apriti un dito, facci vedere in diretta, non si fa Ah, ecco, poi gli fa buono anche il sangue per dire, gli fa buono C'è che ci fanno ventini, i migliacci, per dire, gli hanno il sangue C'è che ci mette sangue umano, c'è che ci mette sangue, diciamo, di vaiare Tanto gli è la stesima Ma ecco che in questa bellissima cucina economica Si va a rimestagnare, diciamo, a dargli bollore A dargli bollore a questa sbrodaglia In questo tegami è comprato da cinesi a un euro Questo gli è acciaio, tetano, 15-40 Vedete come ne sta rimestando Gli va dato la rinsifonata Gli va dato la rinsifonata sui fo In modo che gli ripiglia, diciamo, gli odori, tutti quei profumi Ritornino, ritornino, diciamo, a galla A galleggiare A galleggiare sullo spaghetto Che accolissano una sega a Siena Questi gli hanno veri fici I veri fici proprio all'aglianese I famosi aglioni d'agliara, infatti Tanti si imbrogliano con l'aglione di Siena No, l'aglione gli è andato a Agliara Gli è il famoso aglione d'agliara Perché si chiama Agliara? Perché agliara gli hanno inventato l'aglione A Siena, oh, hanno copiato Gli hanno copiato Gli ne va a ribollir A ribollir dei fini Arrivò lì dei fini Guarda che spettacolo Guarda che spettacolo Che spettacolo la ricà E la magliana, insomma Guarda lì, il viusterino, ragazzi Il viusterino fa buono, fa buono C'ho il cane C'ho il cane e non vede l'ora da assaggiagnere Ma eccoci finalmente all'impiattaggio Che squisitezza, ragazzi Questo fa bene da bambini Gli è per la crescita Gli è per la crescita Proprio gli fa crescere sani Gli è roba sana di una volta Sanno una sega L'hanno unito sbianco Per dire ora Come si fa a fare le pastine Questi gli hanno le vere paste a brodo Le pastine a brodo Diciamo tipiche Guarda che ragazzi Che spettacolo La minonna mi ricordo Mi ricorda questo piatto La minonna La minonna le faceva da mangiare Proprio una cosa Guarda che spettacolo Io l'assaggerei Io l'assaggerei L'assaggerei Ho la coppia Le compro un ballino Un ballino le compro Ma andiamo a fare la prova Wuster La prova Wusterino Mmm Se basi Guarda che spettacolo ragazzi Che spettacolo Andiamo a tagliagnene A segagnene in mezzo Vedete il dito Ah che spettacolo Vedete la cottura perfetta Perfetta ragazzi There's no tea like Heinz Spaghet